Ciao ragazzi, sono Eppi, benvenuti su Mega Wow! Come state? Oggi abbiamo tre grandi sfidanti, Aurora, Chiara e Giorgia, che dovranno superare delle challenge super difficili! Il giudice Cinzia le farà impazzire in palio dei premi molto interessanti! Guardiamo un po'! Ehi, ciao a tutti! Ciao Eppi! Guarda con chi sono! Ciao Eppi! Ciao Eppi! Come vi chiamate? Io sono Giorgia Io sono Chiara Io sono Aurora E ovviamente io sono Cinzia E oggi siamo qui con questi fantastici cupcake! Bellissimi! Sono gli orsetto cupcake E anche odorano! Odorano, sì sì E ci sono anche le bibiche Aspetta, loro lo sanno loro che cosa dobbiamo fare Loro dovranno indovinare delle cose che andrò a fargli mangiare slash bere È per questo che abbiamo queste noi Sì 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 Guardate, tu, mani giù Ho paura No, perché? Quali sono? Ma come, non sai i numeri? Due Hai dominato Lei fa finta, vabbè, ma tanto non può capirlo Qui abbiamo un vassoio con dodici ingredienti, chiamiamoli così Partiamo da questi, questi qui, questi tre Allora Allora Non lo stringere, non lo stringere Questo a te Mangiate Vai, mangiando così Sono gli oreo Oreo? Sei sicura? Vai, sei tanto di sicura Ma oreo originale? No, quelli da bianchi Oreo bianchi, tu? Bascotto con la tua panpella Bravissima E Aurora il tuo cos'è? Ringo E Aurora il ringo, giusti Aurora vince un cupcake Chiara vince un cupcake Giorgia vince un cupcake Sì Vediamo, apriamoli Si chiama Lucy E forse è la cannella O alla vaniglia Mentre questo è Nora Cioccolato Pagli Ed è quello con la cosa Cos'è? Sembra ghiaccio Wow Guardate Guardate È buono È buono Che carino È carino Che fogli Giorgia Cosa? Cosa? Dove? Piano, non bene Mi ha già schizzato tutto Chiara Aurora Pronti? Beviamo Buono Buono Acqua Per 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 Iniziamo con Giorgia Cos'era? Coca A lei non piace la cosa Un punto per Giorgia Che cos'è Chiara? Arancia Sicura? Sì No è sbagliato Mi dispiace Cos'è? È succo alla pera E Aurora? Acqua Acqua Un punto a Giorgia Un punto ad Aurora Zero a Chiara Mi dispiace Bendatevi Tanto abbiamo dato il cupcake Fallo vedere Questo Poi li apriamo tutti insieme Non so se ce l'ho giusto a fuoco Sì 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 E Lilla Che bello E questo a Aurora Pronti per il prossimo? Giorgia Chiara E Aurora Fatemi vedere Non guardare Siete pronte? Sì Vai Un latte Bravissima Chiara Fragola Di cosa di vitamine Ci sei Qualcosa energizzante Tipo Brava Che brava che sei Allora All'arancia Brava Sono bravissima Hai detto fragola Ma che cos'è? Ora yogurt alla fragola Mi dispiace Aurora Questa volta ha perso Io vinto E loro due hanno vinto Sì Quindi cupcake per Chiara Cupcake per Non è che sono belli così Tutti insieme Sì Tutti i pastelli Tutti i pastelli Ultimi tre Bendatevi E le mosi Aspetta Mani Chiara Mani Aurora E mani Giorgia Chiara Dov'è? Al mio tre si beve Uno Due Tre Io so Limonata Limonata Vabbè Io gliela do buona Perché non ce l'avevo a casa E acqua e limone Quindi limonata Va bene Bravissima Chiara E Aurora cos'è? Limonata Pensaci bene Che gusto aveva? Come no? Che gusto aveva? Arancia Arancia Bravissima Ma nel frattempo Il tuo cos'era? È nerdizzante Questo l'ho capito Esce la lingua È colorato A quanto pare Che gusto è? Mi dà molto tipo di mirtillo Brava 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 Va bene, apri quello Limone, limone, limone È limone, secondo te? Si Si chiama Lily Ed è al limone Bellissimo Quello lì è volato Ed è Ollie ed è alla fragola Opla È super squiscioso È super squiscioso Ma mi è veramente tantissimo È buono Isabella che è all'uva E poi l'acqua è un po' più scura Squisci è qua Eccola Tocca a me, io ne ho due E apro questo col giallo Che è bello Eccolo qua Carinissimo però Sono tutti molto carini Tocca a me E questo chi è Giorgia? Questa qua è Pinky Ma è buonissimo Ma è buonissimo E adesso tocca a me C'è un po' di caffè C'è un po' di caffè Fammi adorare A me, aspetta Oh, sì che si sente Il caffè È un po' di caffè È un po' di caffè È un po' di caffè Profumo di zucca Oh Oh Voglio fare così Questo è il po' di caffè Ed è fragola e cioccolato Buono questo qua Secondo me È buono Questo è Lucy Ed è alla maniglia Wow, vediamo È volato È volato Eh sì Quello di Aurora Che è aperto ora È l'X Ed è fragola e panna Guardate Questo qua lo sento di più di alta È una panna Cos'è una panna 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 Viva la panna L'ultimo Elena Dovrebbe essere lime Sì, infatti è lime Wow, è totalmente diverso dagli altri Elena lime Benissimo Abbiamo visto tutti questi Bellissimi cupcake Cosetti cupcake I miei preferiti sono Litz e Zoe Panna e fragola Cioccolato e fragola A me invece piacciono Il lime Che sarebbe questo Ciliegia Benissimo Abbiamo fatto vedere Tutti i nostri amici Pupazzetti cupcake Noi salutiamo Happy con un grande bacio Ciao E tutti voi Ciao ragazzi Continuate a seguirci su Mega Wow Ci vediamo al prossimo video Ciao Grandissime ragazze E brava Cinzia Sei stata un super giudice Chi è stata la più coraggiosa secondo voi E la più golosa A domani ragazzi Iscrivetevi a Mega Wow Per non perdere altre sorprese Ciao